che dire una grande emozione tre giorni di grandi emozioni non saranno ovviamente conclusioni perché sarei non solo presuntuoso ma se io oggi venissi qua in questo momento al termine di questi tre giorni e pensassi di fare delle conclusioni vi dicessi faccio delle conclusioni credo che dimostrerei di non avere come dire requisiti minimi per continuare come dico io a portare avanti questo dovere di rappresentanza che pesa che pesa che pesa tanto un dovere di rappresentanza che cerco come dico spesso anche in giunta di poter ogni giorno portare avanti al meglio delle mie possibilità sicuramente mettendoci grande impegno dividendo condividendo questo percorso e questo grande peso davvero con tutti voi anzi di con tutti noi partire dalla giunta nazionale che ringrazio il consiglio ringraziamenti li ho fatti nella relazione introduttiva quindi non non li ripeto ma dico anche questa mattina come delegati e delegate abbiamo avuto anche gli interventi di componenti della della giunta e anche da lì passa credo un orgoglio un orgoglio forte la giunta l'organo amministrativo dove appunto proviamo a fare sintesi proviamo a portare avanti un ruolo un incarico veramente oneroso ma soprattutto un onore e sono tre giornate come queste che fanno trasformare quelle quel quell'onere soprattutto in un grande un grande onore credo che questi tre giorni grazie ancora una volta in questo caso dico al nel modo diciamo nelle nello specifico al lavoro del nostro lavoro del nostro ufficio comunicazione che già mi direi veramente in tempo reale a partire da venerdì sera dalla tavola rotonda ci ha messo a disposizione anche con l'esperimento del racconto attraverso la app attraverso il sito attraverso i nostri social ci ha messo a disposizione contenuti materiali per il nostro il nostro impegno interno ed esterno che ripartirà che non si è ovviamente fermato neanche in questi giorni ma diciamo che ripartirà con forza fra pochi minuti quando di fatto concluderemo formalmente questa questa assemblea e abbiamo già a disposizione tutti i contributi tutti i contributi delle istituzioni che ci hanno accompagnato in questi in questi in questi giorni di assemblea e quindi una forte responsabilità interna ed esterna dalla nostra interna esterna della nostra associazione e grazie grazie per la condivisione forte che è arrivata appunto che è arrivata alla mia relazione meglio che è arrivato a quello che io ho già fissato voleva essere un contributo voleva essere un contributo e credo che lo sia che lo sia stato quindi una condivisione non alla relazione di tiziano ovviamente ringrazio anche tutti ma ringrazio in questo caso coloro che mi hanno anche citato anche più volte ma quella è la relazione della la relazione introduttiva all'assemblea della WISP costruita giorno dopo giorno per il nostro lavoro ovviamente un lavoro che non inizia due anni fa poi io avendo oggi appunto questa responsabilità e questo mandato posso anche parlare di questi primi due anni di mandato ma ovviamente eh che non si rischi mai di fraintendere una una WISP che nasce come abbiamo avuto modo di ascoltare in questi giorni non solo settantacinque anni fa che nasce molto prima che nasce non solo nella lotta di resistenza di di liberazione che nasce nelle esperienze delle società mutualistiche del tardo della fine delle dell'ottocento una una storia che abbiamo celebrato in questo momento di ieri con con Sergio con Sergio Giuntini con Valerio Piccioni a cui appunto abbiamo affidato insieme al nostro caro Ivano il il compito di di rimettersi di buona lena al lavoro perché abbiamo di fronte fra pochi anni ma gli anni come dire corrono un ottantesimo eh particolare sicuramente c'è bisogno l'abbiamo visto ieri di non perdere non perdere questo patrimonio questo patrimonio di storia e di eh e di memoria eh questi giorni è arrivata una grande condivisione un grande riconoscimento al lavoro il lavoro di tutti noi all'impegno collettivo della nostra associazione del livello nazionale ma subito dopo del livello nazionale nel rapporto circolare nazionale appunto territorio e territorio nazionale tre giorni che io credo siano un patrimonio inestimabile da cui possono anche uscire quei quaderni ecco di cui parlava di cui parlava Patrizia una tavola rotonda quindi a partire dalla tavola rotonda a partire dall'introduzione di Roberto Natale che è stato il primo diciamo atto di questa nostra tre giorni sino agli ultimo intervento all'ultimo intervento di Orlando che riprendo scherzavamo in questi giorni ieri mattina mi ha preso un po' in giro e mi ha detto Tiziano non interverrò perché io intervengo sempre come caspita non è assemblea non è congresso se non intervieni e addirittura come dire ha guadagnato con quel passaggio che prima richiamava il secondo il secondo intervento ma questo per dire quindi da quello che ci ha raccontato in apertura Roberto Natale sino ad Orlando abbiamo dimostrato tutti insieme di essere rete associativa di sapere il significato di essere rete associativa e ieri sera dopo un istante dopo la l'intervento del del ministro per lo sport a body ho dato un messaggino un whatsapp un ulteriore ringraziamento dopo un secondo mi ha risposto dicendo Tiziano caro grazie a te e a voi con un bel punto esclamativo io cerco di fare il mio dovere con tutto il cuore a body non lo riprendo l'avete detto in tanti così come non riprenderò appunto perché non sono conclusioni gli interventi delle istituzioni che sono venute qua a celebrare i nostri settantacinque anni soprattutto per quella che dovrà essere la prospettiva della nostra associazione cito solo un ulteriore passaggio di a body a body ha detto c'è un'agenda di mandato c'è un'agenda dei doveri una body che ha letto con attenzione la nostra relazione come come ha detto che ha letto anche con attenzione il nostro bilancio sociale che ho avuto il privilegio appunto in rappresentanza di tutti noi di farli avere in anteprima il giorno il giorno prima ha preso tanti punti della nostra agenda della nostra relazione che è diventata lo dico senza presunzione condivisione da parte dell'autorità quindi di governo a body ha fatto alcuni passaggi che forse a noi quantomeno fino a ieri l'altro ieri a molti di noi potevano essere sfuggiti quando noi parliamo del nostro impegno verso i decisori politici e allora quel percorso faticoso portato avanti con dall'inizio col forum del terzo settore con Pietro Barbieri il relatore con Vincenzo Manco esperto del relatore audizioni a Bruxelles studi limature documenti per la prima volta il comitato economico sociale europeo come ricordavo nella relazione ha portato all'approvazione di un parere di propria iniziativa appunto partendo però da istanze sullo sport istanze che hanno presentato che ha presentato il mondo della cittadinanza attiva con appunto la WISP la WISP protagonista quel parere del Cese ieri il ministro ci ha detto in maniera molto esplicita è diventata una base di lavoro del ministro per lo sport di questa repubblica nei confronti dell'Europa ha citato ha elencato e ha citato tutte le raccomandazioni che il Cese ha raccolto quelle raccomandazioni che la WISP ha portato a Bruxelles a partire anche dai temi che poi sono diventati di scottante attualità il tema del supporto economico e non solo alle basi associative il tema il tema dell'impiantistica il tema del andare dal punto di vista dei sostegni a vedere l'associazionismo sportivo di base come un soggetto che ha necessità di andare diciamo così senso positivo ad aggredire tutte le fonti appunto tutti i fondi sociali europei pensiamo a quello che ci ha detto sull'impiantistica si è parlato molto di impiantistica in questi due anni cosa fa la WISP sull'impiantistica credo che anche su questo si sia si sia data una 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 risposta ci ha parlato di impianti sportivi che l'Europa dovrà considerare come infrastrutturazione sociale e quindi meritevoli di attenzione di finanziamento da parte dei fondi sociali europei che ovviamente fino ad oggi sappiamo non trovano elegibilità in questo il ministro ci ha ricordato quelle che sono le cifre anche rispetto agli azioni di Erasmus Plus abbiamo credo in questi tre giorni dimostrato di essere un corpo intermedio importante serio credibile qualificato e soprattutto riconosciuto tale non ce lo diciamo da soli non ce lo siamo detti da soli ce lo dice il sistema sportivo ce lo dice la rappresentanza ce lo dicono le rappresentanze del terzo settore ce lo dicono ce l'hanno detto le istituzioni apicali di questo paese riconoscendo il nostro ruolo politico nel senso più alto di questo termine ci hanno riconosciuto la funzione di interesse generale al di là di quello che è appunto chiaramente scritto nel codice del terzo settore quindi ci hanno riconosciuto la nostra dimensione associativa interna mutualistica ma ci hanno riconosciuto soprattutto nella nostra dimensione pubblica nella nostra appunto dimensione legata al bene comune all'interesse generale che va oltre come dicevamo nella relazione che va oltre i confini i perimetri della nostra associazione soprattutto i confini i perimetri come in diversi avete sottolineato abbiamo sottolineato questa mattina rispetto anche al tema del tesseramento rispetto a una a un approccio che deve sicuramente maturare ancora ancora di più questi tre giorni ci affidano una credo anzi non sono convinto da questo punto di vista una responsabilità anzi delle grandi responsabilità insieme a grandi opportunità che attraversano tutto il credo il meticciato della nostra rete che abbiamo ben rappresentato in questi in questi tre giorni e qua c'è il patto associativo qua c'è il patto associativo verso cui prestare sempre grande attenzione il patto associativo da manutenere ogni giorno questo lo possiamo fare anche perché a differenza di altre organizzazioni che in questi mesi che in queste settimane sono ancora alle prese non con una piccola integrazione come abbiamo fatto questa mattina nel nostro statuto sono alle prese e stanno battendo il capo al muro di dover sostanzialmente oggi fare un percorso che quello che noi abbiamo fatto da tempo avevamo fatto da tempo con la scuola sant'anna col professor luca gori ci sono reti associative nazionali che in questo momento hanno grandi difficoltà di coerenza dal punto di vista anche statutario normativo fra nodi territoriali e nodi nazionali ma non è ovviamente per parlare dei problemi di altri è solo per mettere in evidenza come questa assemblea la si sia potuta vivere in questo modo per il lavoro degli anni passati di tutti questi settantacinque anni ma permettetemi di dire soprattutto degli ultimi degli ultimi dieci degli ultimi dieci che ci hanno messo nella condizione di diventare quel soggetto credibile all'interno delle trasformazioni normative e non solo e anche questo richiamavamo nella nella relazione e allora in questo in questo senso non l'ho fatto appunto in apertura lo faccio ora e credo che abbia ancora più valore un ringraziamento a tutti noi ma un ringrazio un ringraziamento particolare a Vincenzo con cui con cui ho l'onore ho avuto l'onore anzi ho l'onore di condividere un'amicizia fraterna che va ben come dire che arriva ben più da lontano di quella che è stata l'esperienza meravigliosa che ho potuto vivere in questi ultimi eh dieci dieci anni e negli otto anni della sua della sua presidenza abbiamo appunto attraversato settantacinque anni di storia del nostro paese abbiamo superato gli ultimi tre anni devastanti abbiamo ancora tutti noi la nostra vita associativa le nostre associazioni e le nostre società sportive che sono veramente la nostra essenza il nostro dna abbiamo ancora tante ferite abbiamo ancora tanti cerotti ma siamo diciamo così non ricoverati all'ospedale ci stiamo curando e sicuramente ne ne usciremo grazie alla nostra solidità io credo che questa associazione abbia appunto ancora una volta manifestato grande solidità questa solidità che abbiamo conquistato negli anni un' associazione fatemela dire così solida non liquida quindi un'associazione che non si decompone ricompone in modo così vacillante incerto fluido e volatile ma un'associazione come ci ricorda spesso il professor luca gori eccezionale ieri cito ecco lui lo devo citare perché io credo che nel suo intervento nei 15 minuti che ci ha potuto donare ieri ci sia veramente un altro già in quell' intervento un quaderno della wisp un quaderno della wisp del prossimo futuro del presente del prossimo futuro quindi un'associazione come dice luca che si combina e ricombina ogni giorno che si combina e ricombina ogni giorno combina e ricombina la propria essenza di promozione sociale la propria essenza di promozione sportiva legittimamente lo ricordo pochi anni fa in sale come queste legittimamente e credo che quella sia stata anche la forza di essere arrivati oggi così ci interrogavamo alcuni nostri delegati nei congressi alcuni nostri consiglieri nazionali avevano manifestavano questa domanda aperta ma dove andiamo cosa cosa dobbiamo diventare cosa siamo e dobbiamo continuare a essere ente di promozione sportiva dove abbandonare l'essere ente di promozione sportiva dobbiamo diventare associazioni di promozione sociale però è una storia che abbiamo vissuto insieme quantomeno con con tanti di con tanti di noi quelle lo sport è terzo settore ricordo un convegno di qualche anno fa quando tanti ci guardavano un po' con così con diffidenza quanto meno sport e terzo settore credo che in maniera inequivocabile questa assemblea ci consegni questa questa affermazione su cui forse non avremo neanche più bisogno di tornare o ricordare situazioni anche del recente del recente passato nella nostra solidità ci sono anche gli aspetti più formali quotidiani che cerchiamo come dire di verso cui cerchiamo di prestare attenzioni massime per cercare di dire avere il minore impatto possibile sempre sulla nostra rete associativa ma sono frutto di regolamenti interni dei guai che non ci fossero sono frutto del nostro statuto che insieme abbiamo condiviso abbiamo approvato sono frutto di normative interne sono frutto di soprattutto di leggi di questo paese all'interno delle quali noi abbiamo rivendicato con forza lo ricordavo sin dal primo giorno del mandato dell'attuale presidente olimpico trasparenza correttezza e quella nostra credibilità l'abbiamo acquistata sappiamo ovviamente lo dico ancora una volta che tutto può essere fatto sempre tutto potrebbe essere fatto sempre meglio ma quella credibilità l'abbiamo acquistata perché abbiamo dato l'esempio e continuiamo a dare l'esempio quindi chiediamo trasparenza all'interno del sistema sportivo ma siamo partiti da noi stessi siamo arrivati a poter dire a poter mettere nelle condizioni il sottoscritto come rappresentante appunto di questa associazione di andare a tutti i tavoli a rivendicare con forza lo dicevo ma lo risottolineo anche nelle ultime settimane quando i miei colleghi chiedono che si interrompano percorsi di certificazione dei bilanci e io invece ho rilanciato forte su questo questo lo posso fare perché sono il presidente della WISP non potrei farlo se non ci fosse questa splendida associazione se non fossi come dire sto momento protempore al centro di questa grande associazione l'altra sera come mi è capitato spesso in questi ultimi anni ho avuto il privilegio grazie anche appunto alla WISP di Brescia e al coordinamento provinciale di Libera di Brescia e che in Perseca in Treccia anche il lavoro della nostra associazione su quel territorio ho avuto la fortuna il privilegio l'onore di ascoltare per quasi due ore e mezza Don Luigi Ciotti porto il saluto di Don Luigi saluto a tutti a tutti noi Don Luigi patrimonio veramente di questo di questo paese che in due ore e mezza ovviamente ha come sa fare lui in modo mai banale ha ripercorso questi ormai ventotto anni di vita di Libera associazioni di associazioni 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 nomi e numeri contro le mafie mi ha fatto un viaggio molto importante attraverso questo impegno civico ovviamente arrivando anche all'attualità delle ultime settimane all'arresto del boss Matteo Messina Denaro su cui abbiamo letto paginate di giornali di quotidiani su cui abbiamo letto paginate di di siti internet su cui abbiamo ascoltato decine e decine di servizi nelle televisivi nei telegiornali nelle prime settimane ora non se ne parla più quasi più ma ovviamente come ci ricordava Don Luigi c'è una mafia ci sono delle mafie che si sono rigenerate quindi tema non è la mafia non è non è finita con l'arresto di quel boss mafie che che hanno bisogno o meglio lotta alla mafia lotta alle mafie che hanno bisogno dell'impegno di organizzazioni come come la nostra Don Luigi l'altra sera ha parlato dello sport dello sport educativo Don Luigi ci ha citato in un post su Facebook ho cercato anche di riportare alcune sue considerazioni e l'affetto e la stima continua che nutre nei confronti della nostra della nostra associazione e al di là quindi punto delle dell'impegno altissimo dell'associazione libera di cui ci onoriamo di far parte di aver anche contribuito alla costituzione sui temi quindi della legalità e della lotta alle mafie e a ogni forma di criminalità Don Luigi ha fatto un passaggio che io credo sia da prendere da prendere da da copiare incollare per il nostro impegno quotidiano e credo che lo dico anticipo e poi vi dico quello che ha che ha affermato nel appunto nel corso delle sue due ore e mezzo di intervento e credo che sia uscito ecco molto bene da questa assemblea dagli interventi dobbiamo essere cittadini attenti sempre non a intermittenza e credo che questo valga appunto anche per la vita di una di un corpo intermedio importante come il nostro con tante responsabilità aggiunto anche e mi è piaciuto molto non possiamo perdere tempo con i professionisti delle lamentele e della retorica e allora mi viene facile da questo fare un'unica permettetemi permetterete citazione all'intervento di un delegato che ovviamente definire delegato è riduttivo di di Elio di di Summa nel suo intervento che riprendeva già Loredana lo cito anche perché come come gli ha detto il delegato meno giovane di questa assemblea e quindi il delegato con anche con maggiore con maggiore esperienza di Elio si potrebbe dire tanto ci sarebbe da dire tanto ovviamente non abbiamo non abbiamo il tempo ma già nel suo intervento appassionato anche i giovani anche chi si è avvicinato ad appuntamenti nazionali come il nostro nel in questa in questo a tre giorni avrà avrà capito Elio è non solo il dirigente che ha costruito pezzi importanti di WISP e il dirigente che continua a costruire pezzi importanti di WISP in terre di frontiere come lui ama spesso definirle ma è anche in questo momento il responsabile del nostro comitato etico nazionale su cui abbiamo un lavoro da rilanciare insieme qua a dire chiedo chiedo scusa perché sono mesi e mesi che prometto a Elio di di andarla a trovare e di parlare soprattutto degli impegni che la nostra associazione ha sul comitato etico non solo per le funzioni che sono ovviamente previste dal nostro sistema di regole ma soprattutto per rilanciare attualizzare il comitato il il nostro codice etico anche alla luce dell'impianto del nuovo impianto statutario regolamentare quindi caro Elio lo farò dopo fisicamente ma lo faccio qua appunto come presidente della della WISP ti abbraccio ti verrò a trovare a trovare presto e rilanceremo insieme a tutta la nostra associazione quel percorso di cui abbiamo maledettamente bisogno quindi quello di alzare sempre l'attenzione sull'etica che deve contraddistinguere sempre di più l'impegno di ciascuno e di ciascuna di noi chiudo veramente credo che da questa tre giorni abbiamo parlato è che l'obiettivo tra i vari obiettivi avevamo quello di caratterizzare ecco il percorso di richiesta forte di emancipazione dello sport sociale di emancipazione di uno sport sociale attraverso il percorso della transizione sportiva poi servono anche diciamo titoli efficaci alle tavole rotonde slogan efficaci quindi all'interno di marcare la meta quando anche con Ivano sui diciamo gli aspetti più comunicativi si ragionava che titolo di a che titolo potremmo dare a questa assemblea Ivano ma veramente su questo vienimi tu in soccorso ma io credo che non si debba andare a trovare nuove formule nuovi slogan abbiamo secondo me un una pista di lavoro di impegno che quest'anno abbiamo voluto accompagnare la nostra stagione tutta quindi marcare la meta abbiamo bisogno di continuare a marcare la meta credo che in questi tre giorni quindi la la meta la si sia marcata bene tutti insieme continuiamo a marcare la meta continueremo anche dopo il trentun agosto perché dal primo settembre in poi ci dovrà essere come dire un altro obiettivo anche un nostro un altro slogan e quindi un invito come dire alla WISPA tutti noi anche dire a tirare fuori idee perché poi fra qualche settimana dovremo partire anche con diciamo così col mettere testa su quella che sarà la prossima stagione quindi chi avremo chi dovrà mettere testa sugli aspetti più scusitamente tecnico e assicurativi ovviamente adempimenti di di estrema importanza chi dovrà mettere la testa più su diciamo contenuti di carattere generale per poter appunto arrivare anche ad uno slogan per la prossima per la prossima stagione io credo ecco e termino così che da questa tre giorni possa uscire anzi debba uscire sia uscito ma ci sia solo come dire un lavoro di cui ovviamente mi farò mi farò carico nel senso non non da solo ma di sintesi di questo tre giorni perché io credo che da questo tre giorni debba uscire il vero e proprio un manifesto il manifesto della transizione sportiva che ancora una volta sarà quindi il manifesto di un'azione di un impegno WISP ma un manifesto come sempre abbiamo fatto nei nostri 75 anni di storia che diventerà patrimonio sicuramente comunque eh azioni che verranno messi a disposizione delle dell'intero dell'intero paese grazie veramente a chi ha consentito di realizzare questa assemblea lo diceva Simone Ricciatti quindi non è benissimo non è non ripeto quello che diceva Simone dalle da chi ha costruito fisicamente da chi ha ideato il questo questo palco a chi ha lavorato veramente in in tutti i nostri settori nazionali negli uffici nazionali quindi ancora veramente un grande ringraziamento e applauso a tutti dalla segreteria di presidenza da da Teresa a tutte le ragazze di ogni età della nostra sede nazionale a tutti i ragazzi di ogni età della nostra sede sede nazionale passando attraverso veramente tutti gli uffici del lungo corridoio della nostra sede di Largonino Frankellucci in questi primi due anni di mandato abbiamo tenuto i piedi ben piantati per terra e abbiamo tenuto testa alta dobbiamo continuare e quindi come ho chiuso a diciamo le mie considerazioni come ho concluso quella che è stata due anni fa quello che è stato il congresso come alcuni ricordavano che abbiamo celebrato con lo staff del nazionale con con la giunta uscente con l'invito ai presidenti regionali non avevamo potuto fare di più per ovviamente le norme covid ma sempre in questa in questa sede io dissi WISP avanti sempre avanti lo ripeto quindi sempre avanti WISP perché questo paese aggiungo a un dannato dannato bisogno di noi grazie veramente a tutti e a tutti e buon compleanno alla WISP e quindi a tutti noi grazie a tutti i nostri amici a tutti i nostri amici a grazie a tutti i nostri amici a tutti i nostri amici a tutti i nostri amici a